Ritorno all'appuntamento con i nostri consigli di lettura, bentrovati insieme, buona settimana e anche oggi vi presentiamo un libro, è un libro di racconti, di storie e aggiungerei anche di figurine. Si intitola Se avesse fede come un calciatore, edito dalla San Paolo, firmato da Don Marco D'Agostino in collegamento Skype con noi. Ciao Don Marco, bentrovato. Ciao e bentrovati a voi, grazie dell'invito. Grazie a te per averlo accolto. Alle tue spalle una maglia di un calciatore, Alessandro Bastoni, numero 95. Possiamo dire che questo libro nasce con Alessandro, con Alessandro Bastoni, è così? Sì, possiamo dirlo. È un po' il titolo, anche se poi l'ho scritto io formalmente, però nasce un po' dalla sua idea, perché tutto era nato da una videochiamata durante lo scorso lockdown, il 29 di aprile. Ci eravamo sentiti alla sera, lui è stato mio alunno per tre anni qui al liceo Vida di Cremona. Un ragazzo bravissimo, anche a scuola, sempre entusiasta di ciò che si faceva, è sempre attento. Io gli dicevo sempre che mi scartava con gli occhi. E in questa telefonata, dopo aver parlato di tutto e di più, se vuoi, gli ho fatto una domanda un po' da adolescente. Gli ho detto, ascolta, ma quando tu ti trovi davanti a Ronaldo, questi grandi calciatori, ecco, che cosa provi? Cos'è che senti quando sei in campo? E lui, ma veramente con una serietà, mi ha detto, Don, dalla difesa non passa nessuno. Ma me l'ha detto con una sicurezza che appartiene ai giovani di fatto, no? E io, sinceramente, quella sera, mentre andavo di sopra a letto, perché era già 12 e mezza alla fine di quella telefonata, dentro di me mi sono detto, certo che se io avessi la fede, la grinta, l'entusiasmo che abbastoni nel difendere la sua porta, beh, io sarei un uomo diverso, un prete diverso, un insegnante diverso. E allora, parafrasando, certo, le parole di Gesù, se aveste fede, almeno come un granello di senape, un granellino piccolo, mi sono detto, dai, se avessimo fede come ce l'ha un giovane, beh, insomma, forse, ecco, e fede, logicamente, certo, è la nostra fede, è la fede cristiana, è la fede che Gesù e i nostri nonni, i nostri genitori ci hanno trasmesso, ma è anche la fede nella vita, ecco, la fede in se stessi, la fede negli altri. E allora questo mi ha dato lo spunto per ragionare in questo libro, che vuole essere carico di tanta speranza, ecco, oltre che di fede. È proprio così, Don Marco, un libro carico di speranza, carico di fede, dove utilizzi molte metafore legate al gioco del calcio, scritto in un periodo abbastanza duro, doloroso e triste per tutti quanti noi e che però, appunto, fa riflettere sull'importanza della fede e della speranza, ma anche di altri valori. Mi ha colpito anche un altro escamotage che hai utilizzato, che è proprio anche del gioco del calcio, ma del gioco, come dire, visto da chi ogni domenica dopo la messa in parrocchia usciva, era piccolo, andava in edicola e comprava le famose figurine panini. Anche in questo libro c'è l'idea, appunto, di appiccicare, attaccare le figurine. Sì, ma perché un po' mi sembrava di tornare a quei tempi. Esatto. Io ho collezionato nella mia vita tanti album di figurine, un po' perché la metafora mi piaceva, cioè la figurina in sé non è niente, anzi, quando tu hai tanti buchi nella pagina perché ti mancano i calciatori, beh, insomma, e quando cominci a trovare le doppie, le triple, le quadruple, e beh, insomma, è una fatica. Ma quando tutte le figurine sono al loro posto, si ricompone la squadra, il girone, il campionato, e questo mi ha dato, così, la possibilità di ragionare tanto su questo, cioè sul fatto che nella vita è vero che ciascuno di noi ha la sua immagine, è una figura, adesso usciamo un attimo dal testo della figurina, però non può essere da solo, il calcio è un gioco di squadra e tante volte chi vuol far da solo o sbaglia o tira fuori o non passando il pallone, il pallone non va in rete, quindi mi piaceva proprio l'idea di una vita che in famiglia, in parrocchia, nella scuola, nello sport, nella chiesa, nella società, deve essere un gioco di squadra e penso che questo possa essere anche una ripartenza, io lo posso dire nel mio piccolo, ecco, essendo un insegnante di ragazzi della scuola superiore, io vedo tanto che quando si fanno le cose insieme, anche adesso che si è collegati insieme, anche a distanza, però che si sfruttano tutti i minuti, anche per parlarsi, per confrontarsi, e questo è davvero qualcosa che ridà speranza, non sentirsi da soli, non cantare fuori dal coro e non andare per tutto il campo sportivo da soli, è vero che ciascuno di noi è una figurina, ma non è una figurina da solo, c'è una squadra, c'è un allenatore, c'è un arbitro, c'è un tifo sugli spalti, anche se adesso non c'è, ma però di fatto c'è, ecco, anche da casa, e quindi sia i giovani sia noi adulti non dobbiamo né fare né sentirci da soli. Non dobbiamo sentirci da soli anche perché ci sono degli esempi molto importanti, a proposito di personaggi, di figurine, ecco, non ci sono solo esempi calcistici, ma ci sono anche grandi campioni di fede, ne cito due su tutti, Donoreste Benzi e Suor Maria Laura Mainetti, quindi utilizzi anche i loro esempi per raccontare delle storie e soprattutto per far emergere dei valori e delle emozioni importanti. Perché mi piaceva l'idea dello scendere in campo, la vita come uno scendere in campo, e queste persone che tu hai citato, come anche tanti altri, sono scesi in campo con tutto loro stessi, hanno giocato, potremmo dire, fino al novantesimo più supplementari, più recupero, più rigori, e sono andati in rete perché la loro vita è stata una vita piena. Ci sono davvero persone che hanno dato tutto se stessi per il Vangelo, per gli altri, si sono consumati, e questo secondo me è qualcosa anche da raccontare ai più giovani. Questo libro è fatto sia per i giovani sia per gli adulti. I giovani perché devono giocare la loro partita, ed è giusto che abbiano davanti esempi di campioni, usiamola questa parola, e gli adulti perché possano essere di esempio. Mi piace pensare sempre che è sbagliato che l'allenatore entri in campo, che i tifosi scendano in campo, e così come è sbagliato aggredire l'arbitro, perché ciascuno deve stare al suo posto, e se anche io vedo che quelli che sono in campo potrebbero far meglio, beh, devo fare le mie riflessioni per incitarli, incoraggiarli, ma non sostituirmi a loro. Quindi i campioni nella fede, nella vita, nel gioco, dal mio punto di vista servono perché quelli che stanno giocando sappiano che possono giocare bene. Io di questo ne sono profondamente convinto, anche se mi dispiace quando magari sbagliano, o sono muniti o sono espulsi a volte anche dalla vita stessa. Ma non posso sostituirmi io. Tutto quello che posso fare è incitarli, fare il tifo, allenarli, spiegargli le regole, ma poi la partita è la loro, e loro stanno giocando la loro partita. Poi simpatico, a un certo punto mi sono ritrovata su una pagina una citazione di Papa Francesco e poi una frase di Mister Conte, allenatore, quindi magari qualcuno potrebbe dire ho sbagliato a leggere libro, no, invece si possono entrambi quasi sulla stessa pagina, nello stesso paragrafo, come dire, ecco che sport, vita e fede a volte raccontano e portano la stessa bandiera, dello stesso colore, degli stessi valori alla fine, no? Concordo. E valori che, dal mio punto di vista, valgono per tutti, i valori sono belli, veri, sempre attuali. Ho fatto un riferimento all'inizio, proprio subito dopo la presentazione di Alessandro Bastoni e dopo la mia presentazione del testo, nel capitolo degli spogliatoi, avevo seguito alcune partite di un campionato per ragazzi diversamente abili. E lì veramente mi sono commosso guardando quelle partite, guardando la dedizione con la quale gli allenatori, l'arbitro, l'arbitro che era disoccupato perché loro erano correttissimi, non c'era mai un fallo, non esistevano gli avversari, ma certi valori che io ho portato a casa da quelle partite, tutti che aiutavano gli altri, certo pur con la foga del far gol o dell'andare in rete, ma facendo di tutto perché tutti stessero bene in quel campo, come dobbiamo in qualche modo vivere pienamente la nostra vita che è il nostro campo, non è la nostra possibilità. E questo penso che ci faccia bene pensarlo. Ecco, gli sport, io che insegno le materie letterarie antiche, gli sport sono nati per questo, non per primeggiare sugli altri, ma per dare la possibilità a tutti, pur nelle varie discipline, ma di partecipare a una festa come poteva essere nella Grecia che riuniva un po' tutti. Ecco, quindi torniamo pure a questo modo di pensare e di confrontarci nella bellezza di tante discipline che abbiamo davanti. Siamo in conclusione, Don Marco, ci lasciamo però con una promessa. Nel 2015 è scritto un libro, sempre edito dalla San Paolo, anche se sono trascorsi diversi anni, comunque un libro il cui messaggio resta sempre attuale, perché racconta la storia di un altro campione, un campione davvero nella vita, anche se fisicamente oggi non è più con noi, la storia di Gianluca, e appunto ti lascio strappandoti questa promessa, torniamo insieme con un altro appuntamento per parlare della sua storia. Che ne dici? Quando vuoi, quando volete. Io ancora, adesso via per collegamenti oppure di presenza fino a qualche mese fa, ma ancora dopo quasi sei anni ho fatto più di 350 incontri per l'Italia, solamente perché dei giovani hanno letto questo libretto, che è un po' la sua testimonianza, e quindi torno volentieri per lui. Ecco, abbiamo bisogno di giovani che ci testimonino il Vangelo. E' proprio così. Intanto, nell'attesa consiglio ai nostri amici telespettatori, il libro è edito dalla San Paolo, firmato da Don Marco D'Agostino, se aveste fede come un calciatore. Ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi, Don Marco, e alla prossima occasione. Un abbraccio. Grazie.